C'è una volta un bambino che per svegliarsi faceva sempre tante storie ma un bel mattino per colazione la mamma gli fa trovare qualcosa di ghiotto un morbido bombolone con sempre lo zucchero a velo e ripieno di confettura a colazione sveglia l'appetito del tuo bambino con le briascine del muino bianco così nutrienti di burro e di uova